ai giochi di Sydney del 2000, diciamo un'allenatrice che sta creando davvero grande campionessa e l'allenatrice anche della campionessa del mondo in carica Daria Varfolomev che vedremo poi nel prossimo girone No, 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 no Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. In replay poco fa è uno dei momenti più d'effetto con un salto molto particolare che eseguono, forse lo vedo solo da lei attualmente e questo è un male così, molto elegante del suo esercizio. Complimenti. Bella sfida adesso, voglio proprio vedere chi avrà la meglio tra le due.